My name is Luca, I live on the second floor, I live upstairs Signori e signori buonasera, interrompiamo scusate per volere del comandante per una notizia ufficiale piuttosto spaventosa Siamo nel pieno periodo della ricerca dei tartufi e in questa tartufaia incontriamo Francesco Francesco è un esperto di tartufi e ti volevamo chiedere innanzitutto la differenza tra fungo e tartufi Allora siamo qui con lo chef Francesco, qui all'interno dell'Appennino Parmense, nel cuore dell'Appennino si mangia pesce, come mai? C'è che è arrivato a un terrasinese E questa è sicuramente una buonissima motivazione, come avviene la vostra ricerca del pesce? A testimoniare che Marina di Massa è un paese piuttosto giovane, una frazione piuttosto giovane Ci sono delle strutture di Art Deco e Liberty appunto a sottolineare questo aspetto Ci fermiamo però davanti all'APT di Massa e Carrara perché appunto sono loro a promuovere tutte le iniziative riguardanti questo comune E sono loro che fanno sì che l'accoglienza degli ospiti sia fatta al meglio Pausa di metà mattina, allora ragazzi ci fermiamo qui al sesto senso Ve lo consiglio perché sono due specialità incredibili La prima è il caffè veramente speciale e unico e la seconda delle coppe di gelato fantastiche E allora che ne dice Loredana? Andiamo? Andiamo Buon proseguimento di serata e se avete notizie e se avremo notizie vi aggiorneremo nel corso della serata